Sa dottore, l'altra notte ho fatto un sogno molto strano. Ero alla messa in scena di uno spettacolo teatrale, una tragedia greca, Antigone, di Sofocle. E ad un certo punto inizia lo spettacolo con la rappresentazione di Tebe in maniera molto pop. A questo punto entra Antigone in scena. Da di matto, vuole ridare la sepoltura al fratello, vuole andare da Creonte, ma Ismene va da lei. Va da lei e trasforma Antigone in una creatura eterea. Va allo stesso al campo di battaglia e seppellisce il fratello. Dopo che ha seppellito il fratello, chiude gli occhi. E quando li riapre, vede di fronte a sé delle sculture stravagante. Però viene scoperta e la portano davanti a Creonte. Antigone a questo punto proclama il suo discorso a Creonte in una maniera molto strana. Senza parlare, senza urlare, senza sbraitare. Abbiamo Creonte da solo in scena. Che assiste in tre monitor diversi al suicidio di Antigone, suo figlio e la moglie. Insomma, una vera e propria tragedia. Avrà mangiato pesante. Musica Musica Grazie a tutti.